Eccoci qui, sono proprio feliciona che oggi si parla di Dirty Dancing, uno dei miei film del cuore. Allora, tutto nasce dal fatto che qualche giorno fa ho messo su Instagram un box in cui vi chiedevo di dirmi quale fosse un vostro guilty pleasure. Non tornerò sul concetto di guilty pleasure e del doppio standard, ne ho parlato nel video precedente, quello su Cattive Maestre. Mi limiterò a dire solo che una delle risposte, tra le risposte che mi sono arrivate, compariva tantissime volte il titolo Dirty Dancing. Ora, essendo profondamente convinta e nessuno mi farà dubitare di questa certezza che Dirty Dancing sia uno dei capolavori della storia del cinema, ho pensato che fosse giusto ristabilire la verità storica. Posto che il concetto di guilty pleasure è sbagliato proprio per principio perché non bisogna vergognarsi di quello che ci diverte, di quello che ci piace, nello specifico Dirty Dancing è un film bellissimo. È molto utile però parlare di Dirty Dancing in questo ambito perché è uno dei film, uno dei prodotti culturali che più ha risentito del pregiudizio verso le cose da femmine. Viene spesso liquidato come un film che piace alle ragazze, una storia d'amore, quando in realtà è tantissimo altro, soprattutto è un film scritto benissimo che affronta temi di grande valore. La prima cosa che ci diciamo è che è un film del 1987. Se lo avete guardato di recente ma anche se lo ricordate vi sarete sicuramente resi conto del fatto che è un film che è estremamente contemporaneo, potrebbe essere stato girato l'altro ieri, è attualissimo ed è perfettamente adatto anche a raccontare il nostro presente. Questo avviene per due motivi. Il primo è sicuramente che è un film che già percepiamo come ambientato in un'epoca storica perché Dirty Dancing è ambientato nel 1960, quindi non lo vediamo invecchiare, ci racconta già un mondo che è passato. Ma al di là di questo io credo che si mantenga profondamente attuale perché ha quelle caratteristiche che Italo Calvino attribuisce ai classici. Lui stila una lista di 14 mi pare punti per capire cosa sia un classico e Dirty Dancing secondo me si adatta a tutte queste definizioni. Se un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, come ci dice Calvino, Dirty Dancing è un film che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. Partiamo dall'inizio, tanto ce la prendiamo calma calma. Dirty Dancing è scritto da una femmina e anche prodotto da una femmina. Questa cosa è visibile a occhio nudo. Il regista è un regista omosessuale e infatti Dirty Dancing ha uno sguardo fortemente femminile, ha un'estetica fortemente femminile e queer. Non è presente in nessun modo il famoso male gates. Dirty Dancing proprio per questo non ha una storia facile, nel senso che inizialmente viene rifiutato, nessuno vuole farlo sto film perché è troppo da femmina, ci sono i balli, c'è un aborto, non lo vuole fare nessuno. La sceneggiatrice e la produttrice però si incaponiscono e alla fine riescono a trovare chi ci mette i soldi, che è una casa di produzione di un video e riescono a produrre questo film con un budget piccolissimo, perché sono mi pare 4 milioni di dollari, ne incasserà 200 milioni. C'è un documentario su Netflix che si intitola I film della nostra infanzia, che dedica ogni puntata a un film. Una di queste puntate è dedicata a Dirty Dancing, quindi se avete voglia di sapere questo percorso travagliato per la produzione di questo film, il documentario ve lo racconterà approfonditamente. Comunque vi basti sapere che nessuno vuole fare questo film perché è un film troppo da femmine. Dicevamo, scritto da una femmina, prodotto da una femmina, girato da un uomo omosessuale che poi è il regista di Sister Act. Cosa significa questo? Significa che abbiamo un punto di vista molto chiaro sulle cose che vediamo e onestamente io credo che sia esattamente questo il motivo per cui molte ragazze, me compresa, lo hanno adorato già alla prima visione perché hanno visto qualcosa a cui non sapevano dare un nome perché figuratevi se nel 1987 sapevamo dare un nome a queste cose, però hanno visto qualcosa che parlava loro, hanno visto qualcosa che riconoscevano, un modo di raccontare che riconoscevano, che ritenevano accogliente. Io il film non l'ho visto nel 1987, ero veramente piccola, però qualche anno dopo, qualche anno dopo c'avevo questa videocassetta che avevo registrato io perché ai tempi si infilava la cassetta nel videoregistratore, si registrava dalla televisione, quindi io mi ero registrata a Dirty Dancing, lo vedevo tanto, diciamo tanto. Guardavo, riguardavo, ma mai avrei avuto il coraggio di dire che era il mio film preferito, perché erano altri titoli che mi facevano sentire intelligente e di cui mi potevo vantare, ovviamente tutti con protagonisti dei maschi e girati da maschi. Ma ora che ho 43 anni e fortunatamente, ho un po' 44 e fortunatamente alcune cose me le sono lasciate alle spalle, posso dire che non solo è uno dei miei film preferiti, ma ritengo che veramente sia un film da studiare, perché è un film che ha tantissimo. Mi anticipo che una delle parole, ora lo analizziamo, parliamo dei temi, parliamo dei rapporti, una delle parole che tornerà più spesso in questa riflessione su Dirty Dancing, è la parola reciprocità, perché secondo me è la parola che caratterizza l'intera storia che ci viene raccontata. Se cerchiamo su un vocabolario la parola reciprocità, la definizione ci dice che è il rapporto dinamico di parità che collega nella stessa forma o nella stessa misura i rapporti esistenti fra due oggetti, rapporto dinamico di parità. Partiamo da Baby. Baby ha 17 anni, io non vi dirò la storia di Dirty Dancing, che do per scontato che la conosciate tutti, non mi metto a raccontare tutto, cioè non ha senso. Baby ha 17 anni, cosa la rende eccezionale nel panorama cinematografico dell'epoca e oserei dire più ancora di adesso, che è una ragazza che nonostante l'ingenuità dei suoi 17 anni non è sprovveduta, ha i piedi per terra, è intelligente, è impegnata, conosce il mondo, tant'è che l'impegno politico di Baby è quello che ce la fa subito, ce la racconta inizialmente. Una delle prime cose che ci viene detto di questa ragazza è che è impegnata politicamente, è molto candidamente che vuole cambiare il mondo. Questa cosa è importante perché il percorso che farà Baby sarà inerente a questo suo modo di essere, non è la ragazzina che sogna il fidanzatino, che sogna di uscire con le amiche, che sogna i bei vestiti, come spesso nelle commedie romantiche. È una ragazza che ha una visione che guarda il mondo, ripeto, con i limiti che ora vedremo, ma è una ragazza che guarda il mondo. Andando avanti scopriamo che vuole studiare l'economia dei paesi sottosviluppati e che vuole lavorare alla FAO. È una ragazza che ha dei principi che non sono ancorati alla sfera personale, cosa molto strana per una donna perché di solito quando ci viene raccontato un personaggio femminile, anche quando è un personaggio di grandi valori, sono sempre valori che afferiscono alla sfera privata, essere una buona amica, essere una brava ragazza, essere una brava studentessa. I valori di Baby afferiscono all'umanità, lei vuole cambiare il mondo, sono pubblici, sono fuori. E questo già è tantissimo perché stiamo parlando della protagonista. Non è un personaggio secondario, non è sullo sfondo, è lei la protagonista. e lei ha questa scala di priorità, questa scala di valori. Dirty Dancing è una storia di formazione. Cosa significa? Significa che la protagonista evolve, matura, in base all'esperienza, ciò che le accade, si forma da quello che era inizialmente, dall'ingenuità alla ragazzina che era diventa una persona adulta. Quello che è interessante è che questo percorso di formazione non si basa sulla scoperta dell'amore, sulla scoperta della sessualità. Il percorso di formazione, il cambiamento di Baby, non avviene perché scopre l'amore o scopre il dolore o scopre la sofferenza dei sentimenti. Scopre quanto è importante stare dalla parte giusta. Scopre di avere il coraggio di prendere una posizione. È questo che fa cambiare Baby. Le scelte politiche fanno cambiare Baby, non l'amore. La famosa scena finale, la scena del salto, quando lei dopo aver provato mille volte a spiccare quel salto, finalmente alla fine lo fa. Cosa ci racconta quella scena? Non ci racconta una ragazza che si lascia andare all'amore perché lei ci è già riuscita a lasciarsi andare all'amore. Non è quello il cambiamento di Baby. Quel salto ci racconta una ragazza che trova il coraggio di prendere una posizione e di pagare il prezzo di quella posizione. Lei ha il coraggio di abbandonare le sue false credenze quel salto rappresenta diventare adulta, solo che è diventata adulta perché si è confrontata con la realtà del mondo, non perché ha conosciuto l'amore. Tant'è che è la scena cardine, secondo me, del film, il confronto con il padre. Ma ci arriviamo dopo. L'amore, per quanto questa appaia una storia d'amore, ma anche le storie di Jane Austen appaiono storie d'amore. In realtà l'amore è un contenitore, è un pretesto per raccontare altro. In Dirti Dancing, nello specifico, appare chiaro dal fatto che Johnny e Baby in realtà d'amore non ne parlano mai. Non c'è, che è una cosa apprezzabilissima per quanto mi riguarda, non ci sono scene di struggimento, non si giurano amore eterno, non si dicono mai ti amo, non pronunciano mai la parola amore. Semplicemente hanno vissuto quel momento, ne sono consapevoli, ma non c'è lo struggimento, la fine, non c'è Marco se ne è andato e non ritorna più. Non c'è la volontà, da parte della sceneggiatrice, di raccontare la fine del primo amore, il dolore del primo amore. Perché in realtà, quella è una cosa che ci è stata raccontata ampiamente dalla letteratura, dalla cinematografia, quello che ci vuole raccontare è un rapporto che arricchisce, che fa bene, che non è detto che sia amore, che non è detto che debba far soffrire infinitamente e far credere di non poterlo andare avanti. E questo ci ribadisce che non è l'amore il motore del cambiamento, non è lo struggimento sentimentale a cambiare baby. Vi dicevo che la parola che tornerà più spesso in questo video è reciprocità. Parliamo del rapporto di baby con il padre. Ci viene presentato da subito come un bel rapporto, una bella famiglia, quella dove vive baby, quella dove è nata. Ha con il padre un rapporto di profonda stima, di affetto, di dialogo, sono molto in sintonia. Da subito capiamo che si interessano delle stesse cose e capiamo anche che lei e la sorella Lisa sono un po' in competizione per l'amore verso il padre, per l'amore del padre. Mi dicevo c'è questa scena che secondo me è la scena che racconta perfettamente qual è il percorso che fa baby. È successo ormai tutto, siamo verso la fine. Baby raggiunge suo padre in terrazza. Il padre sta guardando fuori la terrazza, in terrazza, sta guardando fuori il panorama. Baby lo raggiunge e i due cominciano a parlare e lei gli dice, cito a memoria, quindi insomma potrò sbagliare qualche parola, so di averti delusa perché lei ha appena, lei ha confessato di aver passato la notte con Johnny, non una cosa semplicissima per una ragazzina di 17 anni dire davanti al padre io la notte sono stata con un ragazzo. Comunque lei dice, io so di averti delusa ma anche tu hai deluso me perché mi hai sempre mentito, mi hai raccontato di un mondo in cui i diritti sono di tutti ma per tutti intendevi le persone come te. A questo punto il padre di Baby, il dottor Haussmann, piange. Piange è quello che ci viene raccontato in questo scambio, poi è bellissimo vedere, personalmente lo trovo molto bello vedere un padre che piange, quello che ci racconta questo scambio è la reciprocità. Il loro rapporto, il legame che Baby ha con il padre non è un legame in cui i ruoli sono fissi, non c'è chi insegna e chi impara, chi parla e chi ascolta, chi comanda e chi obbedisce, ma i ruoli sono intercambiabili come dovrebbe avvenire in ogni rapporto, come dovrebbe avvenire in ogni legame tra persone che nutrono un affetto reciproco. Non ci si può fossilizzare nel ruolo e il padre a imparare dalla figlia, può essere lui a imparare rispetto, nonostante abbia un ruolo gerarchicamente superiore per maturità, per esperienza, può essere lui ad apprendere a cambiare idea rispetto alla figlia. E quello che rende eccezionale Baby è proprio che cambia il mondo intorno a lei. Magari fateci caso, pensate ai film che avete visto, è molto difficile che ci sia un personaggio femminile che ha questa caratteristica. Lei cambia il mondo intorno a lei, cambia le persone, le migliora. Le migliora consentendo loro di guardare le cose diversamente. Questo raccontarci i rapporti che cambiano forma, che possono essere mutevoli, che chi stava prima nella posizione di proteggere adesso viene protetto, che chi stava nella posizione di guidare adesso viene guidato. Questo raccontarci il rapporto reciproco con uno scambio, come ci sono la definizione di reciprocità che mi ero segnata. Un rapporto dinamico di parità è quello che bevia col padre, è un rapporto dinamico, cambia di parità. Non c'è chi è sopra e chi è sotto, è mutevole. E il padre può piangere, il padre può dire ho sbagliato. La reciprocità, che vi dicevo è la parola di questo video, è presente anche nel rapporto con Johnny. Un rapporto dinamico di parità. Ci vengono presentati i loro due. Già a partire dai colori ci viene raccontato che siamo davanti a due persone che hanno due identità molto diverse, che hanno avuto esperienze molto diverse. Abbiamo lui perennemente vestito di nero, lei perennemente vestita di colori chiari. Perché questa storia ha fatto sognare, questa storia d'amore, ha fatto sognare la gran parte delle ragazze che hanno visto dirti densi. Sicuramente perché Patrick Swayze è bellissimo. Bellissimo. Ma ciò che ci fa innamorare di questo personaggio è altrove. Ci innamoriamo innanzitutto della sua fragilità. È un uomo che non ha paura di raccontare le fragilità, le difficoltà, di mostrare le crepe. C'è una scena, dopo che loro hanno fatto sesso per la prima volta, lei gli chiede con quante donne sei stato e lui racconta del suo percorso, cioè del fatto che nei villaggi ha conosciuto donne molto ricche, facoltose, che si sono avvicinate a lui, gli hanno fatto credere di volergli bene, gli hanno fatto credere di tenere a lui. Al che Baby dice? Non ti devi giustificare, le hai usate. E lui risponde, no, sono loro che hanno usato me. E questa cosa nel 2024 non l'abbiamo ancora capita. Cioè non abbiamo ancora capito che il punto nei rapporti è sempre il potere. Chi è che ha il potere? Chi è che può permettersi? Johnny ha scelta, Johnny non ha scelta. Johnny deve sottostare a quelle regole, deve accettare quel mondo, accettare un mondo in cui è un pezzo di carne. Perché non ha le spalle coperte, al contrario di Baby, non è protetto. E questo ci racconta tantissimo del nostro mondo. Ogni volta che esce fuori quanto negli ambienti lavorativi, le molestie, gli abusi di potere siano diffusi. E come le donne non si riescano a sottrarle? Perché dove vai? Che fai? Tu vuoi percorrere quella strada. Johnny ci racconta questa cosa, quindi ci racconta la sua fragilità. Ma quello che credo, perlomeno a me, faceva innamorare è che Johnny ascolta. Quello che lo rende perfetto agli occhi di una ragazza è che lui quella ragazza la ascolta. E questa sua capacità di ascoltare, di trattare le donne come persone, ripeto, non così scontata, non ci viene raccontata solo da Baby, che lui ascolta Baby, impara da Baby, ma dal rapporto che lui ha con Penny. Penny è la sua migliore amica. lui ascolta Penny, rispetta Penny, non dubita mai di quello che lei dice, di quello che lei sceglie. Lui le sta accanto, lui la ascolta, la stima, la ammira. C'è un rapporto di reciprocità, sono pari. A questo punto ci aggiungo una cosina, così, offerta dalla casa. Per esperienza personale, io mi fido molto di più degli uomini che hanno delle amiche, che frequentano degli ambienti femminili, che passano del tempo con delle amiche, che sono contente di condividere con loro delle attività, degli hobby. Non mi fido degli uomini che non frequentano il mondo femminile, che non hanno delle amiche, con cui vanno a cena, con cui vanno al cinema, con cui fanno delle cose. Quindi questo già, per me, aggiunge punti a Johnny. Johnny ha un'amica con cui passa il tempo, con cui condivide una passione, non rifugia il mondo femminile. Cosa che invece spesso nella vita accade. Quanti ragazzi conoscete che frequentano un gruppo di ragazze, ragazzi etero, che frequentano un gruppo di ragazze, che hanno un'amica con cui vanno a giocare a qualcosa o vanno, passano una serata sul divano a chiacchierare. Chiusa parentesi. E infatti, proprio perché tratta le donne come persone, come amiche, Johnny non tratta mai baby come un oggetto sessuale. E questo è chiarissimo dall'evoluzione che ha la loro attrazione sessuale. Noi abbiamo due ragazzi, lei ha 17 anni, lui può averne 22, 23, quello è, che provano da subito, lei nello specifico, prova da subito un'attrazione, si capisce, per il mondo, per come è fatto lui. Lui questa attrazione invece la scopre man mano, la scopre conoscendola, la scopre vivendo con lei, confrontandosi, la reciprocità che ci dicevamo prima. Loro due, la tensione sessuale tra i due cresce man mano che si conoscono. Baby è baby per tutto il film. C'è solo un momento in cui viene chiamata Francis, che è quando, dopo un rapporto sessuale con Johnny, lui le chiede, ma qual è il tuo nome? Non ti chiami baby. E lei dice, mi chiamo Francis, come la prima donna entrata al governo. Ci stiamo riferendo a Francis Perkins e il periodo è il 1930 e qualcosa. A quel punto Johnny ripete Francis la sta guardando, la sta vedendo per quella che è Francis. Quella ripetizione è importantissima nel rapporto fra loro due, perché lui smette di vederla come baby e comincia a vederla come Francis. Non è più una bambina, ma una donna forte che può agire per far valere i diritti suoi e degli altri e per combattere le ingiustizie di cui è testimone o vittima. Il film, dicevamo, è scritto da una femmina, prodotto da una femmina, girato da un uomo sessuale, quindi uno sguardo che non è il male gaze, proprio non c'è, ci dicevamo. Questa cosa emerge chiaramente soprattutto nel modo in cui è raccontata la tensione sessuale, l'attrazione sessuale. Loro due provano un'attrazione fisica reciproca, ma questa attrazione fisica diventa una vera e propria tensione sessuale, palpabile, vediamo i corpi che sempre più si spogliano, che sempre più vogliono stare vicini. Attraverso questa cosa succede perché loro si conoscono. La sintonia sessuale è frutto della sintonia che loro coltivano in altri ambiti. Loro coltivano stando insieme. Una delle cose che più amo di questo film, anche rivedendolo l'altra volta, mi ha colpito per l'ennesima volta, è che loro ridono tantissimo. Sono più forse le scene in cui ridono insieme che le scene in cui si baciano. La tensione sessuale, i momenti in cui si percepisce proprio che i corpi si desiderano, spesso sono momenti in cui loro scoppiano a ridere. E la risata non smorza la tensione, ma la accresce. Quel tipo di sintonia, quello stare bene insieme, il ridere alimenta il desiderio molto più di quanto non faccia toccarsi. Diremmo che ridere insieme è il vero afrodisiaco per loro, perché quella sintonia che si crea attraverso le risate, attraverso il fare cose insieme che non c'entrano niente col sesso, fa, rende bello il sesso. E credo che sia un'esperienza che mi confermerete, fa parte della vostra vita. Quando c'è una sintonia in tutti gli ambiti, quando si sta bene insieme al cinema, si sta bene insieme a cucinare la cena, si sta bene anche insieme a letto, quando c'è quella sintonia lì. Tutto questo, ripeto, senza mai negare il desiderio, senza mai negare il desiderio di una 17enne. Se guardate, se vedete, non lo so, vi capita di leggere qualche romanzo young adult per ragazzi, per ragazze sostanzialmente, contemporaneo, le ragazze, le protagoniste che sono più o meno coetane dei baby, sono le ragazze timorate, vergini che vanno fiere della propria verginità come qualità unica che le caratterizza, che sostanzialmente vogliono l'amore romantico, non vogliono semplicemente soddisfare un desiderio vivere, una storia che abbia anche una forte connotazione sessuale. Vivono la prima volta col timore, non si muovono, non sanno che fare. Baby tocca il sedere a giorni, quando stanno per fare la prima volta sesso, lei gli tocca il sedere. Lei è una ragazza di 17 anni che prova desiderio. Viva Dio! Sempre a proposito della parola di questo video, cioè reciprocità. Questo film che è scritto benissimo lo si vede anche dai personaggi secondari. Solitamente è il modo in cui si capisce se un film è un bel film. Quando solo i personaggi che hai di fronte, più vicini, sono tridimensionali e quelli che stanno sullo sfondo sono delle macchiette che si muovono, così è un brutto film. Quando anche i personaggi sullo sfondo hanno tridimensionalità, quindi hanno delle caratteristiche che permettono loro di agire, è un film scritto quantomeno con cura e professionalità. Lisa, la sorella di Baby. Lisa e Baby ci vengono presentate subito come rivali, come diverse, sono opposte, hanno interessi diversi, si approcciano alla vita in modo diverso. Questo è un cliché nelle storie e nella letteratura delle sorelle. Spesso le sorelle dalla Bibbia ai miti greci sono raccontate come rivali opposte, due donne che rappresentano i due lati della medaglia. Questo cliché viene usato anche qui. Ma cosa succede però? Che nella scrittura la sceneggiatrice fa un passo avanti e trasforma la competizione in sorellanza. Succede in una scena brevissima, è ormai finito tutto, siamo alla fine del film, manca proprio il ballo finale, e Lisa prova a pettinare i capelli di Baby, cerca di acconciargli. A un certo punto le dice, me lo sono segnata, ti sistemo i capelli, lei acconsente, poi le dice, ma no, tu sei bella come sei. È una frase piccolissima, un modo semplicissimo di dire io ti vedo, io sto dalla tua parte, anche se siamo diverse, se siamo agli opposti, possiamo condividere lo stesso terreno nel quale io ti sostengo, io ti sono accanto. Questo tipo di vicinanza è espressa anche dalla madre, dalla madre che nel Maggiore, mi pare si chiama, non sono sicurissima, pronuncia solo frasi che sostanzialmente servono a connotare il personaggio, ma non muove niente, alla fine ha una sola battuta importante, che è quella in cui fa stare fermo il padre di Baby, dice stai buono qui, non ti muovere. Anche in quel caso ci viene detta la stessa cosa, che la signora Ausman vede Baby, vede Francis, la vede e la sostiene, è dalla sua parte. Sempre a proposito, come ci dicevamo prima, di film scritti bene, di storie scritte bene, perché vale per i film, vale per i telefilm, vale per le pubblicità, vale per i libri, per tutto. Quando una storia è scritta bene, ogni personaggio ha un suo percorso, ha una sua linea narrativa, parte da un punto, arriva un altro. Anche quelli che spuntano un secondo fuori devono avere un loro percorso. E anche il proprietario del villaggio ha un suo percorso, perché alla fine ci dice quello che è un po' il senso del film, o perlomeno quello che è un po' il senso dell'avere ambientato quel film in quel momento. Sta per finire un'epoca, sta per finire un'epoca, tutto sta per cambiare. Noi che siamo nel 1987, quando guardiamo il film, sappiamo che effettivamente le cose sono cambiate. L'America è profondamente cambiata, il mondo è profondamente cambiato. Mi sono tenute alle fine le riflessioni su Penny. Penny ne parliamo adesso proprio perché, a differenza di tutti i personaggi che compaiono in questa storia, Penny è un personaggio risolto già da subito. Penny è il personaggio che nella trama porta avanti quelli che sono i temi di questa storia. Questa storia parla di disuguaglianze sociali, parla di diritti civili, parla di un mondo ancora estremamente ingiusto, un mondo diviso in classe, un mondo che dà tutto a chi detiene determinati privilegi. Quindi i temi di questo film sono tutti disseminati ovunque, già dalla differenza tra i lavoratori nella struttura, nel villaggio. Vengono tutti sintetizzati da Penny. Penny è una ragazza che a 16 anni è stata cacciata di casa dalla madre che da allora ha dovuto lavorare, da allora ha imparato a ballare perché era l'unico modo per sopravvivere che aveva. Quindi Penny è rappresentazione plastica delle disuguaglianze sociali. Sempre a Penny viene affidato il compito di parlare di quello che è forse il tema principale del film, dell'aborto, del diritto all'aborto. In un'intervista a Cosmopolitan la sceneggiatrice del film racconta di come abbia scelto di mettere l'aborto al centro della trama in modo da blindarlo perché era consapevole che qualunque produttore avesse deciso di finanziare questo progetto le avrebbe chiesto di togliere dalla trama l'aborto e se fosse stato possibile avrebbe preteso che lei lo facesse. Lei ha fatto in modo che l'aborto, quello che succede a Penny, fosse ineliminabile perché se noi togliamo l'aborto che deve subire Penny, Baby e Johnny non hanno nessun motivo per lavorare insieme, per innamorarsi, per ballare insieme. Ha blindato la sceneggiatura, l'ha messo in modo tale che non fosse eliminabile. Quindi la volontà, era una volontà forte di parlare di questo tema. Questo perché? Perché blindarla? Perché come ci diciamo spesso a volte le cose ce le cantiamo e ce le suoniamo fra l'altro. Inserire il tema dell'aborto, scusatemi, il tema dell'aborto in un film che parla di danza, che ha delle musiche stupende, che parla d'amore, una storia ma significa fare un cavallo di troia, significa portare le persone che andranno a vedere quel film e che magari di diritto all'aborto non hanno mai sentito parlare, a farsi delle domande. Stai dicendo qualcosa a qualcuno che non ha chiesto quella cosa esplicitamente perché pensa di vedere una commedia romantica. Quindi quanto è più importante provare a portare alcuni temi nei prodotti che sono mainstream, che sono per un pubblico vario e non per un pubblico che ha già una propria opinione su quell'argomento. Tanto più che il modo in cui viene trattato il tema dell'aborto all'interno di Dirty Dancing è magistrale, non c'è una cosa che sia fuori posto. È tutto giustissimo, l'aborto viene trattato come Annie Ernault lo tratta nell'evento, come qualcosa che deve succedere, come qualcosa che non ha altra alternativa. Pennici non vuole avere un figlio. Lo dice chiaramente, non vuole diventare madre, vuole continuare a fare la sua carriera, ne ha bisogno, ha bisogno di vivere, di lavorare e non vuole un figlio. Non c'è nessuno in tutto il villaggio che le dica ma sei sicura, ma ci hai pensato bene, un pro-life qualunque che spunta da un tombino e le dice ma ti do dei soldi, ci sono delle alternative. Niente. La decisione che ha preso Penny è una decisione che ha preso Penny e non è messa mai in discussione, come dovrebbe essere per qualsiasi decisione presa da una persona capace di intendere e di volere. Decido per me, ho scelto, ho valutato, devi dare per scontato che io abbia valutato come era giusto valutare. Non ho bisogno che mi vieni a dire di pensarci meglio, ci ho già pensato e infatti qui nessuno le dice pensaci e soprattutto nessuno la fa sentire in colpa, qui non c'è un senso di colpa manco a cercarlo con il lanternino. Lei non si sente in colpa? Non c'è un secondo in cui possa emergere questa cosa forse sto sbagliando? Oppure il dolore del post aborto, il momento peggiore della tua vita? No, niente, non c'è il dolore della scegliere di abortire, non c'è senso di colpa dopo aver abortito. L'unica cosa che c'è è il dolore rispetto al fatto che l'aborto non è un diritto garantito a tutti, infatti quello che ci viene raccontato è un mondo in cui l'aborto si pratica come si è sempre praticato dalla notte dei tempi, ma lo Stato fa in modo che tu debba farlo rivolgendoti a dell'altra gente andando in una struttura gratuitamente dove vieni accolta, rispettata e aiutata. Questo film ci racconta semplicemente cosa succedeva quando l'aborto non era legale, ma ce lo racconta senza tutta la retorica del dolore della donna che vive il momento peggiore della sua vita, che soffre. Penny non soffre, per alcune varrà, ogni reazione è lecita o così come è lecito il dolore è lecita la mancanza di dolore. Penny non prova dolore per aver scelto di abortire e nessuno intorno, neanche Baby che comunque è una borghese privilegiata che potrebbe dire ma scusa pensaci bene hai valutato altre ipotesi. Se Penny ha deciso così è perché Penny ha valutato per sé che così era giusto. Dirty Dancing è un film esplicitamente femminista sia per i temi che tratta, sia per come sono caratterizzati i personaggi. E un'ultima cosa, non so se vi ricordate la scena in cui Baby va da Robby che è il cattivo del film, quello che ha messo incinta Penny e se ne è lavato le mani e lei dice ma guarda Penny è incinta fai qualcosa e lui le dice figura di quella con quanti è stato, non me ne frega me. E lui le consiglia un libro, le consiglia un libro da legge, vabbè tipo un tipico maschio che ti consiglia una lettura, qualcosa che tu non sai, che vuole aprirti gli occhi. Il libro che Robby passa a Baby si intitola La fonte meravigliosa ed è un libro di Ayn Rand. Lei è una filosofa, scrittrice statunitense di origine russa, famosa per le sue teorie sull'individualismo, sul culto del diritto individuale, della proprietà privata, dell'egoismo, del perseguimento del proprio bene. Ecco, il fatto che questo libro sia la lettura dell'unico personaggio negativo che c'è nel film, perché è l'unico vero stronzo che c'è nel film, ci dice una cosa, perché è una scena piccola, cioè l'inserirla là vuol dire che stai dicendo, ci vuoi dare un messaggio, ci vuoi dire una cosa. Cosa ci vuoi dire? Che la forza è nella collettività. E infatti poi il ballo finale quello ci dice, l'unico personaggio negativo del film persegue determinati tipi di valori, pensa solo al proprio benessere. Mentre la forza sta nella collettività, il mondo si cambia tutti insieme. Io ami questo film, credo che sia chiaro, lo conosco a memoria, l'ho visto, boh, chi lo sa quante volte. È uno dei miei film preferiti e Baby è una delle mie eroine cinematografiche preferite, perché lei fa un percorso femminista, tende consapevolezza di cosa sia il diritto all'aborto, dell'anticlassismo, dei diritti sociali, della libertà, cosa è la libertà, cosa è il rispetto, non solo nel suo piccolo mondo privilegiato. Grande amore per Baby. Va bene, magari ne facciamo qualcun altro con qualche altro film dell'infanzia che abbiamo amato e grazie per esservi ascoltati, boh, chi lo sa quanto.